E' stato inaugurato questa mattina a Isernia il Parco della Stazione, un'area verde tra Via Libero Teste e Corso Garibaldi destinata in special modo a famiglie e ragazzi. Oltre al pregio sotto il profilo ambientale, il Parco della Stazione ha al suo interno numerose attrattive, tra cui un campo da basket, uno da tennis, una pista per lo skate, numerosi edifici in tempo degradati ed oggi completamente recuperati. Sarà possibile noleggiare bici e monopattini elettrici, passeggiare col cane, dedicarsi alla lettura di un buon libro o più semplicemente osservare i treni elettrici in transito. Per il sindaco da Pollonio si tratta di una giornata storica per la città di Isernia. Ma questo è un tassello importante perché intanto recuperiamo un'area che era degradata, abbandonata e decretata. Sappiamo che era un'area che la città ha riconquistato, ha recuperato perché questa era un'area originariamente di proprietari, diciamo di cittadini di Isernia, proprietari dell'area. Poi oltre un secolo fa con l'arrivo della ferrovia furono espropriate, furono acquisite dalle ferrovie. Adesso il Comune le ha riacquisite, le sono state bonificate, è stato creato un parco verde, uno spazio fruibile da parte di tutti i cittadini in maniera veramente con grande soddisfazione. Soddisfatto l'assessore al verde pubblico e ai parchi urbani, Domenico Chiacchiari che ha lavorato di gran lena per consegnare il parco della stazione nel più breve tempo possibile, nonostante le difficoltà del periodo. Ora dovranno essere i cittadini a dimostrare amore per la propria città avendo cura di quei luoghi. È stato molto complicato il lavoro, abbiamo avuto anche qualche problemino, abbiamo risolto con il sindaco che poi direttamente è intervenuto su alcune cose e veramente oggi è una bellissima giornata. Inoltre la ferrovie, voglio ringraziare anche le ferrovie che ha realizzato il terzo binario che permetterà il treno storico di accedere direttamente sul parco realizzando una pensilina e un ingresso che permetterà proprio ai passeggeri di scendere direttamente su questo bellissimo parco della nostra città. Gesto istituzionale molto elegante da parte del sindaco di Zernia che ha invitato all'inaugurazione Gigi Brasiello, suo predecessore, come forma di ringraziamento nei confronti della vecchia amministrazione per aver acquistato da ferrovie i terreni su cui poi sarebbe stato edificato il parco, grazie ad un finanziamento della giunta regionale, allora guidata da Michele Iorio. Effettivamente questo progetto del parco urbano è partito con la mia amministrazione. In realtà oggi vediamo il compimento di un'opera che serve esclusivamente alla città, serve a diverse cose. Io mi auguro che la fruizione di questo sito possa essere fatta con oculatezza, con rispetto delle regole e soprattutto cercando di non calpestare le libertà alture. Penso che il lavoro sia un lavoro egregio. Ovviamente questo è il punto di partenza del parco urbano verde perché il progetto iniziale prevedeva anche altre cose molto interessanti e io mi auguro che si trovino i soldi per poterle realizzare.